eccoci in diretta diretta breve odierna però molto molto importante allora riguarda olivastro in coltivazione da cavato tre anni fa ecco si è fatto un po di memoria cavato tre anni fa i rami sono già parecchio spessi degli spessori ci sono i lavori da fare ho tolto il filo tolto il filo tempo fa dato respiro a tutta la vegetazione ci sono delle delle nuove crescite molto forti molto potenti e importante allora come possiamo notare si lasciano sempre rami in più ad esempio questo ramo qui è stato lasciato come riserva comunque rispetto a questo qua è tra l'altro in questo momento è spuntato un germoglio queste foglie basali si possono anche togliere prima tre e spuntato un germoglio praticamente nella stessa posizione quindi in questo momento di massima spinta possiamo eliminare possiamo eliminare della vegetazione ok questo serve a lasciare più spazio a ciò che ci serve più vigore a quello che ci serve addirittura qui abbiamo talmente tanto figore dove che ci sono già delle gemme sui alla sua base quindi in questo momento queste ho sempre detto di eliminarle ma queste sono foglie di una settimana fa quindi per il momento le lasciamo piuttosto magari c'è da fare una pulizia sulla su tutta la vegetazione sulle foglie ma prima di fare questo c'è un'altra cosa importante io qui avevo lasciato crescere il ramo di sacrificio molto molto grosso però è troppo lungo qua troppo lungo perché ho quest'altro chiaro o quest'altro parte da qui a un bel movimento avendo questo quello che sta sotto devo portarlo un po più corto e ciò che mi interesserà e far sviluppare questa ramificazione e questa non tanto verso l'interno ma mi servirà verso l'esterno quindi ora anziché lasciarlo tutto così lungo che fa confusione lo accorcio un pochino col tronchese non trovo il tronchese col telefono dove dovrebbe essere questo sì allora lo accorciamo col tronchese la pianta si trova è ubicata nel nel bancale quindi non si può movimentare l'acqua per il momento ma nel momento in cui poi mi qui traslocare se faccio vedere il pezzo ok chiaro un pezzo molto grosso però non aveva senso lasciarlo potato corto qui poi agisco poi agisco anche su questo lato con le forbici eliminando questo si è spezzato vabbè eliminando le gemme che non che non servono quindi anziché tagliare non riesco inquadrarlo bene e questo questo germoglio troppo troppo vicino alla base ecco ora forse si vede si non conviene in questo momento tagliare a filo si lascia un pezzo più avanti si taglierà filo si ragiona sempre in questa maniera poi anche qui c'è un bel ramo secondario questo è o due rami laterali questo centrale molto molto forte non conviene lasciarlo poi un esempio alla base qua c'è un germoglio molto forte che sta crescendo questo è un po più indietro lascio lascio quello forte qui poi ce n'è un altro qua due sono più che sufficienti la stesso ragionamento faccio qui questo cresce in posizione inadeguata questo è troppo vicino alla base ok avrei l'avrei fatta prima questa pulizia però non si però volevo che fosse visibile perfettamente visibile anche capire bene il ragionamento altri altri esempi in questo momento abbiamo una super germogliazione quindi le gemme come questa che sono che nascono alla base dei rami vanno eliminate ce ne sono tantissime quindi bisogna fare una cernita di tutte le gemme sapere perfettamente quali siano quelle utili da lasciare questo è un lavoro da fare esattamente in questo momento non far vegetare completamente tutta la pianta ovunque perché tutto ciò non ha senso richiede energie e questo momento è meglio che vedi questa togliamo lasciamo stare queste laterali ok anche qui abbiamo o col sole al mannette col sole alle spalle non vedo niente ok anche qui abbiamo delle gemme che partono non vedo nulla col sole alle spalle ecco queste vanno tolte anche questa troppo forte troppo alla base facciamo andare tutto quanto dopo qua si rifinisce il taglio non ora questo ragionamento va applicato praticamente a tutta la chioma tipo queste gemmette qua e di questa sta sotto foglioline poi c'era ancora qualcos'altro qui ci sono germogli molto forti vedi germogli molto forti questo che parte verticale lo togliamo anche anche la gemma che c'è la base qui questa va tolta così è libero di svilupparsi questo qua che è già parecchio forte qui ci sono 7000 gemme tutte vicine ok quindi sempre togliamo queste qua che sono troppo vicine al tronco qui ce n'è due attaccate calcoliamo che dobbiamo ottenere una certa io togliere questa e togli una ne scopri altre tutto il ramo qui dove tutto il ramo qui va pulito ne lasciamo solo due che questo lavoro lo possiamo fare anche pian piano che si sviluppano le gemme anche questa vedi troppo vicino alla biforcazione queste gemme sono troppo vicine alla base man mano che la vegetazione si sviluppa noi agiamo pulendo pulendo per bene quindi applichiamo questo concetto questi concetti a tutta la pianta questa parte direttamente verso il basso questo è piccolo lasciamo così qui qui c'è questa gemma fortissima che non non è utile anche questa acqua buongiorno qui pulizia pulizia tanta pulizia qui abbiamo una biforcazione con due rami una gemma questa la togliamo e anche questa e anche i rami che ci sono qui devono essere tolti durissimo mai oltre anche se così tutte le gemme c'è qualche formica e questo è il segno che c'è anche un pochino sicuramente un po di cocciniglia dovuto certi punti al fatto che sia troppo troppo fitta ed è anche qua se le piante sono troppo fitte avremo una presenza enorme di no enorme no avremo una presenza anche qui vedi qui ci sono troppi troppi germogli che concorrono a crescere nella stessa posizione ok questo deve andare via troppo alla base qui ce n'è un altro dopo quindi questa togliamo anche perché c'è un altro ramo opposto non so che cosa si possa vedere oggi dal telefono che poi anche questo qua che è tutto e verticale ne abbiamo quasi fatto in questo punto ci sono c'è già questo bel ramo sviluppato togliamo il germoglio forte che sta nascendo puliamo dalle foglie basali e lasciamo la sua bella biforcazione vediamo se trovo qualcos'altro anche qui come terminali e abbiamo due niente non po non potiamo corto col tronchese ma eliminiamo quello più esterno quando questo sarà cresciuto in abbondanza allora potremo accorciare qui ho fatto una potatura grossa spuntata una gemma togliamo la gemma posso far notare che questa pianta vegeta anche dalla base verso il basso togliamo le gemme che spuntano polloni polloni sono la presenza è quasi giornaliera ecco questa è una potatura questo poi sarà modellato è che formerà l'apice quindi per il momento lo faccio andare poi l'inverno prossimo penserò bene di dargli una modellata era già stato tirato su tramite un tirante niente qua vicino c'è blu c'è un po di casino qui ci sono dei semi di viburno di due anni blu la parte più esterna alla persa sta vegetando abbastanza bene su questo lato qui poi dalla vegetazione sarà portata arriverà sin qua sicuramente altro niente un po no altro no bene 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 altro qui devo fare una serretta ma non lo so se faccio tempo a farla che mancano solo due mesi andar via quindi sono un po indeciso ma penso che la farò perché comunque in due mesi questi due mesi si riesce a ottenere tanto sto guardando per qualcos'altro il larice di oriana vegeta ed è lì la dice di oriana che vegeta e fu esposto a temperature molto elevate questo è il bosso che avevo preso a dandora è un po tutto c'è un po tutto che va i mirti mirti vegetano ecco per quanto riguarda ad esempio il mirto in questo momento si potrebbero anche eliminare tutte le foglie capito tutte in questo momento si potrebbe fare una defogliazione totale questo perché la pianta in forte spinta e su molte piante si può fare questo sulle mediterranee sui lentischi vedi anche su questo questo è un altro mirto si potrebbe eliminare tutte le foglie questo è il pino che abbiamo rinvasato cavato da terra rinvasato in diretta stando bene gonfia le gemme corse da sughero che vegetano altre cose lentischi che abbiamo lavorato l'anno scorso ecco sui lentischi questi li avevo rinvasati li avevo rinvasati questa questa la scorsa estate in diretta tutte e due lentischi sia questo che questo questo momento stanno vegetando bene dalla cima dei rami ci sono germogli la base posso eliminarli questo sempre per il solito concetto che in questo momento visto che parte vedi anche questo qua ho notato che gonfia gemme vedi nella cima dei rami possiamo su questi non eliminare tutte le foglie che abbiamo fatto il vaso l'estate scorsa però eliminare queste gemme ormai sì questi li avevo lasciati apposta per far lavorare le radici questo momento si possono eliminare se non li avete viste va a vedere da diretta vedi ce ne sono anche altri alla base vanno eliminati così abbiamo massima spinta le radici sono attive in questa maniera abbiamo massima spinta sulla vegetazione più esterna altro il pino che abbiamo rinvasato in diretta le candele crescono molto bene ci sono tutte verticalizzate ed è di tutte verticali non si tocca nulla ci sono che gemme retratte quello dove non abbiamo messo il filo è più avanti un po più avanti questo qui recupera c'è una tascia come possiamo vedere anche sugli olivastri questo momento ovunque ci siano questo è tanto che non viene rinvasato non l'ho cavato io in questo momento si possono eliminare tutte le gemme tutte le foglie che portano gemma praticamente questa pianta si può defogliare tutta completamente vedi perché ci sono delle piccole gemme alla base di tutte le foglie questo lavoro si può fare tranquillamente ovunque abbiamo gemma lascia la fogliare togliamo la foglia corrispondente chiaro non tirandole ma tagliando così con pazienza quando rientri rientri dal lavoro e voi rilassarti ora su queste piante dove non siamo intervenuti a livello radicale possiamo fare questo lavoro la forte spinta primaverile farà crescere poi tra l'altro questa non è impostata fosse impostata lasceremo solo il lavoro che ho fatto sull'olivasto di prima lasceremo solo le le gemme che ci interessano qui questa è delle della parte che avevamo aggiunto di questo olivastro ho visto in diretta ci serve che cresca serve che si ingrossi l'avevamo innestato qua per avere una vena viva sul fronte attecchito perfettamente lasciamo solo il continuo va bene un po di lavori po di pulizia da fare ci vediamo giorni prossimi stasera non lo so non penso stasera non penso ciao